Bocciata la Lega di Salvini, le proposte che hanno voluto scrivere a mano facendo riapprovare il disegno di legge riguardante il bilancio sono state sostanzialmente bocciate e stralciate per via di un parere legislativo netto che ovviamente non può che dire siamo molto perplessi e addirittura si scrive non si capisce cosa voglia fare la giunta regionale. Oltre a questo dato di divisione tutta interna che ha prodotto per la prima volta nella storia di questa regione un bilancio scritto a mano ci sono ulteriori perplessità che noi denunciamo perché dopo il risanamento del centro-sinistra che ha dato la possibilità a questo governo regionale di utilizzare e usufruire di 10 milioni di euro in più di spese correnti restano al palo diversi stanziamenti su importanti settori. Non c'è un euro in più sul sociale, non c'è un euro in più sul settore primario, non c'è un solo euro per la piccola e media impresa, nulla sull'erosione della costa per quanto riguarda gli eventuali risorse stanziamenti in più e ancora scompaiono gli investimenti per i nuovi ospedali. È davvero un bilancio deludente, il risultato è che quei 10 milioni sono stati sostanzialmente spartiti durante la giunta da qualche assessore e che la maggioranza non abbia toccato palla a partire dalla Lega.